Sì, sta bene. L'ho visto in salute, tranquillo. Lo stato di salute dell'Arezzo però? Ne parlerà lui. Io ho avuto tranquillizzazioni, mi risulterebbe che nulla è cambiato e lui è stato molto sicuro di quello che dice, quindi ritengo che sia nel giusto e che abbia detto la verità. Fa una conferenza stampa oggi pomeriggio, non fate dire a me quello che oggettivamente deve dire lui. Per quanto riguarda la pratica delle caselle, andrà avanti comunque o c'è da aspettarsi magari un rinvio per... Io devo tornare in consiglio e lo approfondisce l'assessore Tanti con i capigruppo, ma credo che vada avanti. Visto quello che ci è stato detto va avanti. Grazie. Alle ore 16 in sala stampa. Ma gli aretini possono stare tranquilli? Alle 16 in sala stampa. Delle caselle avete parlato? Alle... guardate, cioè, vorrei dico fino alla macchina. Alle 16 in sala stampa. Attenti che esce lo scalito. Attenti che esce lo scalito. Grazie.